Ciao, benvenuti a tutti a InterSolar 2024 da noi di ExSolar. Oggi siamo qui a presentarvi i nostri nuovi prodotti Glass Glass. Partiamo con il Neptune che è un 108 celle fino a 4,45, ci contraddistingue un vetro da 2 mm e 2 mm che ci dà la particolarità di avere 25 anni di garanzia sul prodotto e 30 anni sul rendimento lineare. È un prodotto notevolmente efficace anche contro la grandina per poi passare al nostro prodotto full black 450 watt che viene chiamato lo stesso Neptune solo che è un prodotto in full black totalmente black con le stesse caratteristiche e stiamo accettando già prenotazioni per le consegne fra fine luglio e inizi di agosto con il nostro nuovo prodotto che è l'Earth Topcon che è un prodotto da 1,9 m sempre con un vetro da 2 mm e 2 mm 1,91 m con 500 watt di potenza, sempre un Glass Glass. Siamo disponibili a qualsiasi tipo di nostro consiglio per quanto riguarda i prodotti e vi auguriamo buona fede a tutti.